Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV anche in questo giorno di Ferragosto. Iniziamo parlando di siccità. Ci sono davvero due facce della stessa medaglia o meglio due situazioni davvero agli antipodi. Parliamo dell'acqua di Montedoglio che da una parte da oltre dieci anni salva le colture della Val di Chiana e dall'altra ancora non arriva. I nostri due servizi. Ti apri la condotta, l'acqua dalla diga di Montedoglio arriva per caduta, mi capisci che c'è bisogno di pompe, di gasolio per tirar fuori l'acqua dai laghi e quant'altro, quindi è una vera manna dal cielo. Sono stati circa 900.000 e metri cubi di acqua dall'invaso di Montedoglio che hanno letteralmente dissetato i campi della Val di Chiana Aretina. Qui siamo a Pieve al Top, comune di Civitella in Val di Chiana, nel distretto 7. L'acqua di Montedoglio qui arriva da oltre dieci anni. Il nostro lavoro l'ha salvato molto bene, molto bene perché questo è un distretto servito benissimo, la mia azienda come le aziende che sono qui sono servite molto bene. L'acqua passa attraverso un contatore, quindi noi agricoltori paghiamo in base al consumo. A luglio le richieste si sono moltiplicate in modo esponenziale, andando a toccare valori mai raggiunti negli anni precedenti. Dopo un inizio in punta di piedi a causa di un giugno incerto e piovoso, i consumi hanno mostrato una repentina quanto drastica salita, colpa del caldo torrido degli ultimi tempi e delle temperature sopra la media. In particolare questa è una zona alta vocazione frutticola in cui ci sono aziende importanti e anche il distretto dove in genere registriamo il valore più alto dei consumi. In particolare quest'anno, il mese di luglio, viste le temperature, diciamo che mensilmente noi registriamo i consumi e abbiamo visto che c'è stato un incremento di quasi il 30% rispetto alla media degli anni passati. Tuttavia questo incremento è stato compensato dai mesi precedenti di maggio-giugno che invece ha piovuto e i consumi erano inferiori rispetto agli anni passati. Prevediamo che anche il mese d'agosto, viste le temperature, ci faccia attestare su un valore di metri cubi più alto rispetto agli altri anni. La sua azienda è lambita dall'acqua di Montedoglio ma non è servita? Purtroppo è così, noi non abbiamo l'acqua di Montedoglio, ci corre intorno ma ancora non ci raggiunge. Che cosa significa per chi fa il suo mestiere? Beh, allora, consideriamo che come io spesso dico l'acqua è vita, quindi soprattutto in periodi come questo dove il cambiamento climatico porta a lunghi periodi di siccità, il non poter avere l'acqua significa a volte anche problemi gravi. Sicuramente significa non poter fare colture che hanno bisogno dell'irrigazione. La nostra azienda è a prevalente indirizzo zootecnico però i terreni sono coltivati a foraggi dai quali però è escluso il mais perché chiaramente quello avrebbe bisogno dell'irrigazione e quindi non lo possiamo coltivare. Per il resto grano, orzo, prati che comunque diciamo teoricamente non hanno bisogno dell'irrigazione però colture che hanno bisogno dell'irrigazione e comunque colture da rinnovo tipo la coltura del pomodoro che comunque potremmo fare ci è preclusa. Ecco, come però riuscite a portare avanti la vostra azienda che comunque è in attività? Abbiamo i pozzi che servono per l'approvvigionamento per il bestiame, che servono ovviamente per la casa. Non possiamo irrigare perché non danno tanta acqua da poterci consentire di irrigare e in ogni caso è sempre un attingimento dalle falde. Siccome una delle conseguenze di questi periodi così siccitosi e anche del consumo di acqua che tra l'altro è aumentato in questi periodi, l'abbassamento delle falde, è evidente che più acqua si estrae dalle falde e più si peggiora la condizione. Pertanto avere un'acqua disponibile che proviene dalla superficie sarebbe interessante. L'acqua di Montedoglio è un'acqua di grande qualità tra l'altro, quindi noi avremmo due vantaggi in uno. L'acqua di Montedoglio è usata anche per scopi idropotabili, quindi sostanzialmente la potremo anche utilizzare per dar da bere agli animali. Quindi rimane da aspettare, ma quanto? Il dilemma è quello, rimane da aspettare, chiaramente non possiamo fare altro che aspettare. La nostra speranza è che la politica destini a questo tipo di investimenti sempre maggiori risorse, perché è chiaro che esistono migliaia di altri canali su cui sarebbe necessario investire, ma questo tipo di investimenti è da ora in avanti, io credo, assoluto. È ormai da anni che gli scienziati dicono che noi stiamo andando verso una tropicalizzazione del clima, quindi questo significa che avremmo dei periodi di grandi piogge e dei periodi di grandi siccità. Se non riusciamo a immagazzinare l'acqua nei periodi di piogge per poi utilizzarla quando non piove, è evidente che saremmo sempre più sacrificati. Chi ha a proprio carico decreti di espulsione, delinque e non ha il permesso di soggiorno non può che essere allontanato da Arezzo. Così il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, risponde ad un intervento del gruppo consigliare Arezzo 2020. Le gravi povertà, afferma Lucia Tanti, sono una cosa, la deliberata e reiterata illegalità e violenza sono un'altra e mischiare le cose non serve a nessuno. Il gruppo di lavoro per le gravi povertà e il nucleo operativo per la sicurezza sociale proseguono nel loro lavoro di garantire sostegni e aiuti, ma sempre e solo nel rispetto delle regole. In altre parole, chi è fuori dal perimetro della legge non può essere incoraggiato a restare nella illegalità. Adesso parliamo invece della stazione Medio Etruria. Il comitato per la stazione dell'alta velocità che vorrebbe che quest'ultima si facesse a Rigutino non molla, sostanzialmente non va in vacanza. Allora ai nostri microfoni, Domenico Alberti, proprio in rappresentanza del comitato, che ci dice andremo avanti per osteggiare la soluzione di Creti. Il comitato non si ferma neanche durante questo agosto bollente, vanno avanti le vostre attività, ma soprattutto va avanti il vostro messaggio. Così come da tre anni, a nome e lo abbiamo promesso agli oltre 8.000 pendolari firmatari della petizione stazione alta velocità Arezzo, ma anche a tutti quei portatori di interessi, studenti, persone che si spostano tra la capitale economica e quella politica ogni giorno per motivi di lavoro e non soltanto per i turisti. Lo abbiamo promesso alle vallate aretine. Non ci fermeremo perché restiamo abbondantemente convinti che questa ingiustizia, lì dove venisse consumata ai danni del comune capoluogo aretino con i suoi più interni e quindi svantaggiati territori, arrecherebbe un documento irreversibile. Non ce lo possiamo permettere. Da tre anni, diciamo, anche durante la pandemia e nella economia di guerra che specialmente le piccole imprese stanno chiudendo e hanno bisogno di risposte concrete. E chiediamo ancora una volta a tutta la politica di non lasciare solo chi sta impegnandosi ogni giorno nel bel mezzo di tante difficoltà incontrate a mantenere in vita i territori. altrimenti le frazioni si spopoleranno sempre di più, le città diventeranno dormitori e i giovani saranno costretti ad andarsene anziché a restare, per converso, collegati con il resto d'Italia ed Europa e anche per motivi di studio raggiungere in giornata come accadrebbe lì dove venisse realizzata una stazione sull'alta velocità. Ecco, l'ipotesi Creti però, insomma, sembrerebbe molto accreditata anche sui tavoli ministeriali. Se questo dovesse accadere, che cosa farete? Noi continueremo a sensibilizzare tutta la politica regionale, nazionale, locale e anche sovranazionale. Sono in programma alcuni incontri con autorevoli e nuovi protagonisti della politica europea. Li comunicheremo di volta in volta perché non siamo abituati a vendere chiacchiere. Siamo tutti lavoratori, professionisti, studenti e appassionati della nostra città. Non domandiamo poltrone e neanche interessenze, ma sicuramente non staremo con le braccia concerte a guardare qui 276 treni che occupano 82 chilometri di infrastruttura direttissima, la quale senza prestare un servizio alla città di Arezzo che l'ha ospitata negli anni 90 è destinata all'oblio. Se prendesse corpo la promessa elettorale del ministro Salvini e della governatrice Teseia, alla quale abbiamo chiesto 11 volte un incontro, un confronto e un'analisi per comprendere i motivi di questa scelta che definiamo ancora una volta scriteriata, capricciosa e dannosa perché escludente tutta la provincia retina. Parliamo adesso invece di sanità. Secondo la Will Toscana, il settore della funzione pubblica, quanto annunciato dalla Aslo Toscana Sud-Est in merito di assunzioni, non torna e secondo appunto il sindacato, la sanità pubblica, se non corriamo ai ripari, rischia il collasso. I conti non tornano a dirlo, è la Will Funzione Pubblica Toscana in merito al piano delle assunzioni della Aslo Toscana Sud-Est. Anche se il totale, spiegano dal sindacato, risultante dalla somma dei dipendenti che hanno lasciato il servizio e quelli che sono entrati dal 2021 al 2024 per il momento è positivo, ci sono aspetti che ci preoccupano e non poco. Come è reso noto anche dai rappresentanti dei lavoratori, il saldo conta su un incremento di 82 dipendenti in più rispetto agli anni passati. La situazione è cambiata, però l'inversione di tendenza è arrivata all'anno successivo per poi confermarsi anche nei mesi successivi fino ad arrivare ad oggi. Per il 2022 sono state 583 le cessazioni e 480 le assunzioni, con una riduzione di 103 unità. Nel 2023 invece le cessazioni sono state 561 e 506 i nuovi assunti con uno sbilancio di 55 unità. Infine nel 2024 le cessazioni si dovrebbero attestare intorno alle 558 unità, mentre si parla di 502 assunzioni, confermando un trend negativo di 56 unità. Per il 2025-2026 la tendenza dunque che sembra emergere è ancora quella di coprire parzialmente e in maniera non sufficiente le cessazioni che farà di nuovo diventare negativo il bilancio complessivo, una situazione preoccupante sia per i livelli occupazionali che per la tenuta del sistema pubblico che rischia il collasso. Dal prossimo settembre cambierà il numero per chiamare la guardia medica o meglio il servizio di continuità assistenziale. Ci sarà un numero unico per tutta la Toscana. Dal 16 settembre sarà la città metropolitana di Firenze a partire per prima, poi arriveranno le province di Prato e Pistoia. Per Arezzo si parla del 21 di ottobre. Vediamo. 11 61 17. Questo è il numero in arrivo anche in Toscana per chiamare la guardia medica, ossia il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10 del prefestivo alle 8 del mattino feriale seguente. Il numero europeo è gratuito e raggiungibile da fisso o cellulare. Sarà attivo da settembre. Si parte dal 16 per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia. Dal 21 ottobre entrerà poi in funzione ad Arezzo, Grossetto e Siena per poi essere attivo dal 18 novembre nelle province di Livorno, Lucca, Massacarrare e Pisa. A regime saranno quasi 200 le linee attive in contemporanea a cui risponderanno operatori competenti e medici qualificati. Gli operatori risponderanno alle richieste di bisogni non urgenti dispensando consigli ed assistenza. Nel caso in cui invece si ravvisi una situazione di emergenza, i cittadini dovranno sempre solo rivolgersi al 112, ovvero il numero unico per le emergenze. L'1161-17 non parlerà solo italiano. Dei traduttori saranno in grado di interloquire e fare da ponte in 20 lingue diverse. Il sistema prevede inoltre una funzione di tutela dei medici di continuità assistenziale. In caso di aggressione o di fronte a situazioni di rischio potranno attivare sul dispositivo di cui saranno dotati per la gestione delle informazioni dei pazienti un segnale d'emergenza che arriverà direttamente alla centrale operativa per chiedere l'intervento agli organi preposti alla pubblica sicurezza, un servizio attivo ad oggi solo in Toscana. Una volta a regime il servizio sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non c'è vacanza ovviamente anche per le farmacie, un servizio importante non solo per i cittadini ma anche per i turisti che stanno affollando il nostro territorio e allora c'è anche una diversa distribuzione dei servizi proprio all'interno delle farmacie comunali. Sentiamo. Le farmacie non chiudono e molte di loro ormai la maggioranza fa orari continuati dalle 8 alle 20 e poi ci sono quelle che fanno anche i turni notturni, le più grosse fanno i turni notturni quindi io direi che siamo più che tranquilli e più che sicuri degli aiuti e delle coperture per qualunque necessità. Anche ad agosto le farmacie retine resteranno sempre aperte per non lasciare mai da soli i cittadini, un punto di riferimento prezioso per chi resta a casa ma anche per i turisti. Certo anche ai turisti è ovvio, se c'è necessità si aiutano anche i turisti, anche sul piano linguistico si cercherà di farsi capire e di capire le necessità di un inglese, di un americano, di un tedesco, perché no? Ma non solo, nel mese di agosto è prevista una nuova distribuzione dei servizi all'interno delle farmacie comunali. Le strumentazioni per la valutazione della struttura ossea, cuore e pressione sono sottoposte periodicamente a turnazione tra le otto farmacie della città e delle frazioni con una nuova mappa che resterà attiva dal 12 agosto al 7 settembre. I servizi possono essere prenotati direttamente nelle farmacie interessate o dal portale delle farmacie comunali di Arezzo. La farmacia dei servizi sta decollando sempre più velocemente, ci sono sempre più esami che potremo fare. Sto prevedendo perché il mio difetto iniziale è di essere un medico, quindi non posso fare a meno di entrare in argomenti di medicina e quindi di aiuto alla popolazione perché in questo momento la parte pubblica e per motivi di carenza di personale, per motivi di vario tipo non può riuscire a rispondere a tutte le necessità della popolazione, quindi io dico noi farmacie cercheremo di sostituire quello che non riesce l'ospedale e la parte pubblica a fare. E siamo alla pagina dello spettacolo ed è uno spettacolo proprio tra prosa e cabarea, il chiaro di luna, quello in programma per sabato 17 agosto alle 21. Raggiolo tornerà a teatro a cielo aperto con il monologo brillante Stasera tocca a me scritto e interpretato dall'attrice Eleonora Zacchi. Un percorso tra la fantasia e la realtà volto a rappresentare tratti di vizi e virtù dell'animo umano, una serata ad ingresso gratuito e inserita all'interno della rassegna Raggiolo Estate 2024. E Arezzo invece si prepara a vivere la prossima edizione del Polifonico. Dalle Filippine a Don Kong, 350 corristi da tutto il mondo ad Arezzo per il festival corale più antico d'Europa. È tutto pronto per il Polifonico che dal 20 al 25 agosto porterà concerti, concorsi, convegni e masterclass con esperti ed artisti da tutto il mondo nei luoghi più suggestivi della città di Guido Monaco. Un programma che spazia dalla musica sacra a quella profana passando per il canto liturgico medievale e il canto popolare. Gli eventi, tutti ad ingresso libero, si terranno tra l'Auditorium Carum Hall Guido d'Arezzo, il convinto nazionale Emanuele II, la Basilica di San Domenico, il teatro Pietro Aretino, la Fortezza Medicia e la Cattedrale dei Santi Pietro e Donato. Ad inaugurare il festival il concerto presso la Basilica di San Domenico con il prestigioso Camer Corps, uno dei principali corri da camera della Germania, guidato dal suo fondatore e direttore Georg Grun. Cuore del programma è il 72esimo concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo, insegnito della medaglia della Presidenza della Repubblica che vedrà le esibizioni di 350 corristi provenienti dalle Filippine, a Don Kong, dall'Italia alla Germania, dalla Spagna alla Francia, sino alla Polonia e l'Indonesia. 11 eccellenze della musica corale internazionale che saranno valutate da una giuria d'eccezione. Nel Parco della Fortezza Medicia, venerdì 23 agosto alle 21.15, invece, il 39esimo Festival Internazionale di Cianto Popolare, durante il quale si esiberà come coro ospite quello folcloristico dei Cardellini del Fontanino. Sabato 24 agosto, infine, all'Auditorium Carum Hall, l'appuntamento da non perdere con la proclamazione del vincitore del Gran Premio Città d'Arezzo. Parlando ancora di musica, un appuntamento, in questo caso in calendario proprio per domani, venerdì 16 agosto alle 21.15, nell'ambito del Terre d'Arezzo Music Festival, nella terrazza del Palazzo di Fraternita, in Piazza Grande, il concerto dal titolo Ottoni a Palazzo. E siamo allo sport, mancano ormai pochi giorni al via ufficiale della stagione 2024-2025 per la BC Servizi Scuola Basket Arezzo, che lunedì prossimo, 19 agosto, si radunerà al Palazzo Sport Estra, proprio, ovviamente, agli ordini di coach Alessio Fioravanti, coadiuvato dal vice Stefano Liberto e dal preparatore Simone Marraccini. con una squadra profondamente rinnovata rispetto a quella degli ultimi anni, gli Amaranto inizieranno la preparazione in vista di un campionato particolarmente stimolante che prenderà il via domenica 29 settembre sul parchè della Menzana Siena. Ed infine parlando di ciclismo, c'è grande attesa per l'edizione numero 107 del Giro del Casentino in programma domenica 18 agosto, una delle gare più antiche d'Italia, anzi, fra quelle che si disputano ancora fra gli Elite e gli Under-23, in questo momento è proprio la più antica, visto lo stop quest'anno del Giro della Borghera a Trento. La Corsa si disputerà appunto domenica 18 agosto, con partenza e epilogo a Corsalone, quindi nel comune di Chiusi della Verna, organizzata dall'Unione Ciclistica Aretina, vede tra gli iscritti già 200 partecipanti con molte delle migliori formazioni nazionali. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Noi vi lasciamo, come ci siamo detti, per questo mese di agosto alle 21 ogni sera una puntata della nostra trasmissione Fattore D, storie di donne, realizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Arezzo, pronto donna. Grazie per l'ascolto e buona visione.